E' tempo di olio, ovviamente, di estravergine di oliva, che per il nostro paese vuol dire tradizione e salute. Si tratta di un prodotto che gli esperti definiscono eccezionale proprio per qualità e salubrità. E d'altra parte, l'intera tradizione gastronomica italiana e toscana non starebbe in piedi senza questo prezioso prodotto. Immaginate una ribollita o una pappa al pomodoro senza una C di olio estravergine? In questo periodo nei negozi arriva l'olio Fior Fiore Cop, un'estravergine ottenuto esclusivamente da olive dell'ultima campagna olearia, raccolte e lavorate sul territorio nazionale in frantoi che Cop ha selezionato. L'olio estravergine di oliva Fior Fiore Cop è in tutti i punti vendita a Cop Fi, nella confezione in latta. Si tratta di un materiale più adatto alla conservazione perché l'olio è un prodotto estremamente delicato che necessita di essere protetto dai raggi solari. Da non trascurare anche che la confezione in latta è più adatta al trasporto e permette un migliore stivaggio in casa. Detto che è buona e che parte integrante della nostra cultura gastronomica va davvero sottolineato che fa bene e se ne sono accorti perfino gli americani che con una ricerca medica hanno evidenziato i benefici che il consumo di olio estravergine ha sulla l'apparato cardiocircolatorio e poi combatte il diabete, ha proprietà anti-invecchiamento ed è il condimento con il migliore equilibrio di grassi oltre che di concentrato di vitamine e minerali. E ora non resta che affettare una bella fetta di pane toscano.